Presentarsi bene significa fare una buona partenza, un po' come nella Formula 1. Partire bene significa affrontare la gara con un vantaggio. Partire male significa dover impiegare buona parte di quella gara, a cercare di recuperare quel vantaggio e questo potrebbe non essere sempre possibile. Benvenuto sul mio canale YouTube Carlo Loiudice Coach. Iscriviti se non lo hai già fatto, clicca sulla campanella se vuoi rimanere aggiornato tutte le volte che pubblicherò un video. In questo video ti parlerò di come presentarsi al meglio facendo subito una buona impressione, soprattutto come evitare un vizio molto ma molto comune che riguarda, ahimè, più del 90% delle persone e te lo dico sull'esperienza del mio ascolto e dei corsi che ho fatto e che tengo regolarmente. Quando ci si presenta bisogna dare subito una buona impressione, in quei pochi secondi bisogna guadagnare il vantaggio, come ti dicevo all'inizio del video, un po' come nella Formula 1, cercare subito di arrivare in testa o nel ciclismo, stare nel gruppo di testa perché se si sta molto dietro poi tutta la gara deve essere fatta in recupero. In questo video nello specifico ti parlerò di quando qualcuno ti invita a presentarti. Per esempio un presentatore durante una conferenza nella quale sei ospite ti invita a presentarti insieme agli altri ospiti, quindi arriva il tuo momento e dovrai dire nome, cognome e magari professione. Questo potrebbe accadere anche durante una riunione politica, durante una riunione di lavoro, una riunione di condominio, cioè prima di parlare ognuno deve presentarsi e dire buonasera sono il signor tal dei tali, mi occupo di questo. Ora facciamo un gioco insieme, metti in pausa per un momento questo video e registra quello che ti sto dicendo, cioè sei in una conferenza e qualcuno ti invita a presentarti, quindi dovrai dire nome, cognome, professione, città di provenienza. Registra questo messaggio o se non puoi o se non vuoi in questo momento dillo ad alta voce, ricreando questa situazione pubblica, dillo ad alta voce prestando molta attenzione, quindi nome, cognome, professione e città di provenienza. Metti in pausa il video e poi continuiamo con questo gioco. Scommetto al 90% che la tua presentazione sarà stata tipo questa. Salve, sono Mario Rossi, sono un architetto e vengo da Roma. Un po' come quando si va in trasmissione, avete presente quelle trasmissioni dove si vanno a fare dei concorsi a premi? Ciao, mi chiamo Sandra Marchigiano, vengo da New York, sono contenta per fare questa sfilata. Guardate bene la differenza adesso da questo modo di presentarsi. Salve, sono Mario Rossi, sono un architetto e vengo da Roma. A questo, salve, sono Mario Rossi, sono un architetto e vengo da Roma. Notate una differenza? Salve, sono Mario Rossi, sono un architetto e vengo da Roma. Sono Mario Rossi, sono un architetto e vengo da Roma. Vedete la differenza dov'è? La differenza sta nel fatto che il secondo modo dà quel famoso vantaggio di cui ti parlavo prima durante una gara automobilistica. Ora, partire con questo vantaggio è la tua grande opportunità. Andiamo a vedere come puoi praticamente cambiare il tuo modo di presentarti. Vediamo un primo trucco. Porta le frasi verso il basso. Quando ti presenti, anziché fare Sono Mario Rossi, sono un architetto, vengo da Roma, impara a fare Sono Mario Rossi, sono un architetto, vengo da Roma. E fisicamente, con la mano, prendi la frase dall'alto e portala giù. Devi ingannare il cervello. E questo è il modo per farlo. Sono Mario Rossi, sono un architetto, vengo da Roma. Prendi una postura potenziante, cioè anziché nasconderti quando ti presenti, anziché farti piccolo. Sono Mario Rossi, sono un architetto, vengo da Roma. Fatti grande. Fatti grande, allarga le spalle, piazza bene i piedi per terra, senti il pavimento. Guarda, testa alta, petto in fuori. Di senza problemi, sono Mario Rossi. Sono un architetto, vengo da Roma. E puoi unire anche questo all'esercizio di prima. Sono Mario Rossi, sono un architetto, vengo da Roma. In questo modo inizierai a correggere il tiro. Registrati, fallo tutti i giorni, fallo 30 secondi al giorno. Guardati davanti allo specchio, fallo davanti al telefonino facendoti un video. Registra l'audio. Fa che questo diventi un'abitudine. Basta farsi piccoli. È giunto il momento di mettere la testa fuori dal guscio. La tua professione vale. Dai valore al tuo lavoro e alla tua persona. Non bisogna nascondersi durante una presentazione, ma bisogna venire fuori e dire quello che si fa. Sono Carlo Lojudice. Sono un attore e coach, professionista. Punto. Non devo giustificare a nessuno il mio lavoro e altrettanto non devi fare tu. Non devi giustificare quello che stai facendo. Non devi dire, sono un architetto, sono un negoziante, ho un negozio di abbigliamento. No! Sono Lucia Bianchi, sono un'imprenditrice. Sono Lucia Bianchi, ho un negozio di abbigliamento. Tutto quello che volete, tutto quello che fate, ma date valore alla vostra persona e al vostro lavoro. Se non lo fate voi per primi, non lo faranno gli altri. Ora, attento, questo meccanismo del presentarsi in maniera sbagliata, sono Mare Rossi, sono un architetto, adesso che lo sai, lo riscontrerai e vedrai quanto è comune. Quindi, ti prego, nei commenti scrivilo. Ogni volta che vai da qualche parte e noti qualcuno che si è presentato così, scrivi, scrivi, di, è vero Carlo, avevi ragione. Esercitati, esercitati, parti con il grande vantaggio. Lo spettatore non conosce questo meccanismo, lo recepisce a livello inconscio. Quindi facciamo in modo che a livello inconscio recepisca invece il tuo valore e la tua professionalità. Se ti piace questo video iscriviti al mio canale, clicca sulla campanella per essere aggiornato tutte le volte che pubblicherò un video, metti un mi piace, condividilo, seguimi sui miei social o sul mio sito internet coach.carloloiudice.com Grazie.